Due furti nel giro di qualche ora sul Mona, nella giornata di ieri, i malviventi si sono dati un gran bel da fare. Per ora di pranzo è stato svaliggiato lo studio fotografico di Angelo D'Aloisio, mentre in mattinata è stata una donna residente nei palazzi Celidonia ad alertare il centralino del 113 per un furto di monili d'oro nella sua abitazione. La signora era rientrata a casa dopo qualche giorno e ha trovato l'amara sorpresa. Quello che sembrava un vero e proprio colpo d'inizio estate si è rivelato fortunatamente un furto di lieve entità, perché ladri hanno portato via oro e gioielli, ma non di valore, visto che il bottino del furto non è ingente. Sul posto si è reso necessario il sopralluogo della polizia scientifica, che ha effettuato tutti i rilievi di rito, mentre per l'inizio dell'attività investigativa si attende la denuncia della donna, che non si aspettava rientro a casa così concitato. E nel corso dell'estate è facile prendersi un periodo di ferie o concedersi solo qualche giornata fuori casa, approfittare per fare qualche viaggio uscita fuori porta. Ma bisogna pure tenere in considerazione che le ferie non arrivano per tutti. I ladri ad esempio non vanno in vacanza, a quanto pare.